A partire da domani le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse e sarà attivata la didattica a distanza al 100%, un provvedimento che rientra nell'ordinanza firmata ieri dal presidente delle Marche Francesco Acquaroli che pone le province di Pesore, Urbino e Fermo in zona rossa. Tuttavia ha fatto sapere Samuele Mascarin, assessore ai servizi educativi del comune di Fano, per alcune tipologie di alunni, ovvero quelli diversamente abili o con bisogni educativi speciali, sarà garantita l'opportunità di proseguire alcune attività in presenza. Questo ovviamente è un servizio che garantiremo nelle scuole dell'infanzia comunali, così come garantiremo nelle scuole dell'infanzia comunali ma anche in quelle statali e nelle scuole primarie statali che usufruiscono di questi servizi, anche dei servizi di riflessione scolastica e di trasporto a scuola bus ovviamente per queste tipologie di alunni nel caso in cui siano già fruitori di quei servizi. Questo è un modo di applicare in maniera piena e coerente quello che consente in particolare il DPCM del 2 marzo ed è un modo in qualche modo anche di dare una risposta ai bambini, alle bambine, alle famiglie che potrebbero essere maggiormente in difficoltà in questa fase. Ovviamente attendiamo anche noi quello che è stato annunciato dal Governo nazionale, cioè un nuovo DPCM nei prossimi giorni che probabilmente potrebbe modificare alcuni elementi organizzativi e che chiederà un aggiornamento anche da parte nostra. Ovviamente come sempre interverremo anche con delle comunicazioni tempestive e cercheremo in ogni modo ovviamente di fare la nostra parte in questo momento così complesso e difficile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.